Le istantanee firmate Maurizio Galimberti, polaroid di grandi dimensioni, a testimonianza delle ferite strutturali causate dal sisma all'interno del complesso monumentale della Basilica di San Nicola. Circa una ventina di scatti con una delle quattro storiche giant polaroid realizzate ad Amsterdam nel 1981, di cui due solo operative oggi, una delle quali in uso a Milano al maestro Galimberti, noto per i suoi volti fotomosaico. Un gioiello della storia della fotografia, utilizzato appunto da grandi artisti, tra cui Andy Warhol e Karl Lagerfeld, utilizzato in questo caso da Galimberti per scattare alcune fotografie uniche di grandi dimensioni, 50x60 cm, con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni riportati a seguito del terremoto dalla Basilica di San Nicola di Tolentino. Sì, diciamo che di questa macchina ce ne sono tre in tutto il mondo, di cui una appunto è in Photomovie a Milano e appunto io assieme a dei collezionisti privati di Tolentino e assieme a un altro sponsor inglese, siamo riusciti così a recuperare il villanaro per raccontare con queste pellicole meravigliose il silenzio e il dolore che il sisma ha prodotto nella chiesa di Tolentino, nel cappellone di San Nicola e ovviamente di riflesso nella comunità di Tolentino. Questa macchina è un po' il fiore all'occhiello della fotografia mondiale, è difficilissima da utilizzare, ci vuole un operatore, è una macchina che ha una scrittura incredibile, produce degli originali unici e quindi tutta questa grandiosità del mezzo, questa maestosità unite spero alla mia visione fotografica sono state portate qui per dare un senso alla ripartenza, cioè noi avevamo fatto prima un progetto di 9.000 scatti per raccontare la bellezza del cappellone, di San Nicola e di San Nicola e anche di Tolentino perché il lavoro era anche su Tolentino e poi dopo il sisma abbiamo deciso di proseguire, di fare un appendice che però è la parte più importante del progetto perché questa appendice vuol far sì che sia la ripartenza, cioè vuole essere una testimonianza forte per ripartire, per dire alla gente ovviamente noi siamo, la chiesa è messa così, il cappellone è messo così, ricostruiamo, risistemiamo per ripartire, per dare alla gente la chiesa perché proprio se essere qui anche in questi giorni si vede proprio come le persone si affacciano perché hanno bisogno della loro chiesa, quindi questo è veramente anche per noi che stiamo qui a lavorare toccante. Sappiamo che è un progetto che parte da lontano, queste istantanee dove saranno collocate? Ma queste istantanee sicuramente sarà fatta probabilmente una mostra anche a Milano, una mostra importante a Milano e poi dopo il progetto iniziale era quello di darle alla comunità di Tolentino e proprio di dedicare una sala a questo progetto all'interno del museo di San Nicola. Poi adesso non so come sarà l'inter successivo perché appunto essendo San Nicola chiuso spero che finiscano comunque in qualche posto dove si possono vedere presto e quindi ecco forse per questo è meglio chiedere al dottor Marcelletti che lui è quello che diciamo fa un po' da coordinatore, è anche uno degli sponsor e quindi sicuramente ci sarà sicuramente una mostra a Milano perché è un posto una mostra straordinaria, non perché l'ho realizzata io ma è un lavoro fantastico, devo dire carico di emozione, carico di progettualità tra pittura e fotografia e poi carico di silenzio soprattutto nell'ultima parte e quindi è un progetto che merita una vetrina importantissima. Brevemente come funziona questa spettacolare e gigantesca Polaroid? Niente, questa Polaroid è proprio il concetto delle vecchie Polaroid, quelle che ci facevano quando eravamo bambini per la carta d'identità, quindi esponi come se fosse una macchina fotografica normale, quindi tempi, diaframmi, poi dopo attraverso uno sviluppatore che è posizionato lateralmente si aspetta due minuti, l'immagine viene appunto posta nello sviluppatore, si aspetta due minuti e poi si spellicola come si faceva una volta, solo che invece di avere una Polaroid che ci sta in un portafoglio abbiamo una Polaroid che è 50-60 cm più i bordi sotto diventa praticamente un 50x80, quindi stiamo parlando di una fotografia ed è un originale unico, quindi è di una bellezza statosferica. Poi qui abbiamo utilizzato anche la tecnica del transfer, quindi alcuni scatti sono stati trasferiti su carta da disegno a umido, quindi appena le pellicole vengono sviluppate si spellicolano e la fotografia si butta via mentre la matrice, quella con il chimico, viene rullata su questo foglio di carta in umido e trasferita, quindi una volta finito di rullare si aspetta un paio di minuti, si distacca e il concetto della sinopia, quindi del trasferimento, tutta l'immagine viene portata sulla carta da disegno che tra altre cose usiamo il cartoncino Fabriano, visto che siamo in regione, però si usa sempre quello perché è la carta più straordinaria per questo lavoro, quindi è proprio un passaggio tra fotografia e pittura. Tutto il progetto dal nome San Nicola Re-Maid è stato realizzato grazie alla sensibilità e all'amore per l'arte per la sua Tolentino del dottor Alberto Marcelletti. Ma questo è un progetto che ha avuto inizio quattro anni fa e nel tempo con la supervisione del maestro Calimberti sono state scattate qualcosa come dalle 6 alle 9 mila pellicoli Polaroid, poi tutte quante setacciate, scelte le migliori come sa fare solo e esclusivamente il maestro Polaroid sono stati tirati fuori qualcosa come dai 35 ai 40 mosaici come solo lui sa fare. Ad oggi sono stati scattati altri come avete potuto vedere del Giant Polaroid e tutto questo lavoro che torno a ribadire ha avuto un itinere abbastanza lungo e sembra oggi concludersi, nel pomeriggio faremo gli ultimi scatti con il maestro dovrebbe, io uso il condizionale perché il buon Dio qui ogni tanto ci cambia i programmi ma in teoria dovrebbe tutto questo materiale dovrebbe confluire in una pubblicazione, pubblicazione di largo respiro e una mostra che dovrebbe andare a essere itinerante ma sicuramente la vorremmo far partire da Milano non tanto e non solo in omaggio al maestro Calimberti ma anche perché riteniamo che la cassa di risonanza, così la voglio chiamare, definire è Milano e vorremmo questo progetto che era nato con un altro intento oggi invece ha dovuto cambiare completamente direzione, cioè oggi deve servire a Tolentino, alla comunità agostiniana, a San Nicola, alla Basilica di San Nicola una visibilità secondo me nazionale, internazionale proprio per richiamare l'attenzione su una città che è stata fortemente ferita. Per rispondere un po' a quello qual è stata la sua domanda dove andrà a finire tutto questo progetto, questo progetto che raccoglie queste numerosissime immagini e credo che debba almeno a mio avviso avere una degna collocazione all'interno del museo di Ocesano o quantomeno del museo del museo agostiniano perché trovo giusto e corretto che siano loro, gli agostiniani quelli che anche ci hanno ospitato e qui mi piace ricordare come ho detto poc'anzi in conferenza stampa il precedente priore padre Massimo Giustozzo e l'attuale priore padre Francesco i quali ci hanno sempre accolto con grande buonamia e ci hanno permesso delle cose che qualcun altro magari non avrebbe permesso ma vista l'importanza del maestro Calimberti, l'attaccamento della mia famiglia a questa comunità e anche sposando un progetto che era a mio avviso esclusivamente spirituale, lasciatemelo dire oltre che artistico ho avuto un'accoglienza della comunità agostiniana per cui mi sento rispondere alla sua domanda sarei contento di poter vedere collocato tutto questo lavoro all'interno della comunità agostiniana Ecco Sindaco Pezzanesi, un altro momento importante per l'immagine delle ferite di Tolentino Sì, un momento importantissimo e il tono anche di voce e l'enfasi che mettiamo in questo momento è significativo perché ci siamo scossi interiormente, interiormente in senso positivo da questa magnificenza di San Nicola che seppur ferito, seppur inagibile ci dà tutta questa forza ognuno nel nostro ruolo ovviamente quindi a noi compete fare l'amministrazione a Tolentino compete portare nei tavoli dove si decide la ricostruzione post-sisma tutte le imprese, le definirei, che dobbiamo fare per ridare a questa città non solo la bellezza che aveva ma magari qualcosa anche in più e oggi questa occasione è un'occasione estremamente identitaria identitaria di un luogo come Tolentino, di una città attraverso San Nicola che è profondamente ferito così come tutte le altre chiese del centro ricordo la cattedrale di San Catervo che è pur il padrono di Tolentino quindi importantissima, bellissima anch'essa e San Francesco e così via, ecco quindi è come se qualcuno ci avesse tolto una parte dell'animo e allora attraverso questo lavoro che è partito qualche anno fa ormai possiamo dire prima del sisma, attraverso l'iniziativa della famiglia Marcelletti di Alberto Marcelletti, di suo padre straordinariamente importanti per tutti gli aspetti a partire da quello sociale, familiare, imprenditoriale di questa città ma soprattutto anche culturale e storico come appunto questo momento quindi l'idea di fare questo libro con l'esaltazione di San Nicola attraverso la tecnica straordinaria di un professionista, di un artista come Maurizio Calimberti è stata un'idea di Alberto Marcelletti che praticamente ha poi portato attraverso questo percorso anche dopo il sisma all'esaltazione della stessa idea che pur martoriata sotto l'aspetto della costruzione dell'intero filmato che andrà su Sky Art grazie anche al nostro talento locale Luca Giustozzi, fotografo e regista, insieme al regista Sbrolla appunto sarà trasmesso un filmato di 35 minuti su Sky Art dove si esalteranno tutte queste grandissime emozioni e soprattutto la professionalità del grandissimo Maurizio Calimberti ecco questo è un segnale importante, identitario di ripartenza e proprio l'altro giorno mentre incontravo il commissario Errani ho detto ancora una volta, così come noi sindaci tutti insieme abbiamo già detto e chiesto più volte di darci la possibilità di ripartire con un'opera identitaria sul territorio e noi abbiamo espresso San Nicola quindi l'esaltazione dell'arte e della maestria del Maurizio Calimberti insieme alla ripartenza che può passare e deve passare attraverso un grande abbraccio, una grande forza, un grande calore e la grande fede di San Nicola e della sua grandissima struttura qui di Tolentino grazie 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 grazie